Il film è un film sul potere che il cinema ha ancora di svelare la realtà vera ed è la storia, si approfitta di un retroscena che è avvenuto realmente a Palermo, il furto di un quadro del Caravaggio rubato dalla mafia, una notte di pioggia trasportato con un hub non sappiamo dove, se ne perdono le tracce, questa storia è rimasta nel mio cuore perché sono palermitano ma anche nella memoria di tutti perché di questo ci hanno parlato tanti pentiti, tra i più importanti, ogni volta aggiornando la sceneggiatura e mi è sembrata la storia giusta per raccontare il cinema, diciamo oggi il cinema è in difficoltà apparentemente, è in difficoltà perché la sala non esiste più o è comunque molto ridotta e il cinema si fruisce in un altro modo. Resta questa possibilità che il cinema vero ha di dare allo spettatore l'accesso a una realtà diversa. Ecco in questo film in un modo molto giocoso, divertito, io ho immaginato questo, ho messo in scena proprio il cinema, dei personaggi che appartengono al dietro del cinema e l'ho mescolato a questa ricerca del quadro attraverso il personaggio che interpreta Renato di cui ci parlerà. Il mio personaggio, allora prima di tutto una definizione di Roberto Andò, cioè sul film, così per chi ascolta dice questo lo vado a vedere, una commedia beffarda, quindi mi sembra una buona cosa per farla andare al cinema. Il mio personaggio è un pensionato ex servizi segreti che è stato offesso da questo furto, dopo che è andato in pensione ha continuato a indagare su questo furto. Ha dei dati a disposizione, però a un certo punto sente il bisogno di, cioè con i dati a disposizione non ce la fa a capire la realtà, sente il bisogno di affidarsi a un raccontatore di storie, cioè anzi nel nostro caso una raccontatrice di storie, cioè una sceneggiatrice ombra. E qui comincia la cosa, la sceneggiatrice scrive il film, il film si comincia a girare e intanto mentre si scrive il film succedono dei fatti reali che corrispondono al film, fino ad arrivare a una verità diversa da quella che ci hanno trasmesso i pentiti. Una verità in cui c'entra anche il rapporto tra la mafia e pezzi deviati nello Stato. Quindi tutte le favole che i pentiti ci hanno raccontato, che il quadro è stato distrutto, che serviva da scendiletto a rina o che è stato bruciato, è stato dato in pasta ai porci, tutte queste cose vengono, come dire, distrutte dalla nostra sceneggiatura, dalla sceneggiatura che questa sceneggiatrice ha scritto e che ha messo in opera. Sono sicuro che adesso tutti vorranno andare a vedere questa comina per farla, bellissima. Grazie mille a Roberto Bernato per essere qui a Pressfield Radio, The Festival Insider.